A chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa, a chi sbaglia gli opinioni e che si coleggerà, a chi non ha molti amici e gli amici troverà Buon Natale, Buon Natale. Il coraggio di un bel ideale, per non essere buoni solo a Natale. A chi ha scritto le canzoni, a chi sente la libertà, a chi spingere le mani e per sempre scriverà Buon Natale a chi non mette, perché gli occhi belli avrà Buon Natale. Oggi siamo venuti all'istituzione Sant'Andrea per porgere gli auguri ai nonni. Questa mattina siamo venuti dai nonni a far mostrare loro i balletti e le canzoni che stiamo preparando noi scuole da tre mesi per lo spettacolo di Natale. Il titolo dello spettacolo è Ad occhi chiusi e parla dell'amicizia tra due bande, una di neri e una di bianchi. Lo spettacolo viene rappresentato all'oratorio di Clusone, sabato 22 dicembre alle ore 10 per le scuole primarie e alle ore 21 per tutte le famiglie. Vi aspettiamo numerosi. È il primo anno che a scuola realizzate uno spettacolo in questo modo. Come è stato costruito in questi mesi? Allora, lo spettacolo è stato costruito grazie alla collaborazione di tutti gli insegnanti dalle classi quinte. E' un lavoro interdisciplinare perché il tema è proprio quello che riguarda il tema del rispetto, dell'amicizia e della collaborazione. Perciò durante le diverse attività, vedersi ad esempio musica, vedersi educazione motoria, vedersi religione, queste ore sono state messe a disposizione per costruire lo spettacolo. Non è solamente per queste materie, ma anche per tutte le altre materie. I bambini si sono impegnati abbastanza e dobbiamo pure anche ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato nella collaborazione. Perché ad esempio per i balletti abbiamo avuto la consulenza di Anna Giordani, mentre per il coro abbiamo avuto la consulenza di Giulia Legren. Ma anche per la scenografia, ma anche per le musiche, le basi musicali, è stato tutto grazie alla collaborazione di tante persone che ci hanno dato una mano. Da. Oh, 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 oh. L'amico è, l'amico è, una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, tra lui e te divisa in quella stessa anima. Però lui sa, l'amico sa, il posto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche un buzardo è, l'amico è, qualcosa che più ce n'è meglio è.